Benvenuto in questo Virtual Tour, io sono Angelo Camilleri Addis, Mister Affitti Brianza e ti porto in visita in un appartamento bilocale ampio, in pieno centro ad Esio, ottimo con tutti i servizi principali cittadini. Ingresso su Ampio Disimpegno, che conduce a tutte le stanze della casa. Partiamo dal soggiorno, ampio e luminoso con doppia esposizione. Arredamento classico e in stile vintage. Da questa stanza si ha accesso a un ampio deposito. Cucina abitabile spaziosa, completa di elettrodomestici e con uscita su zona esterna privata. Accesso esterno al deposito. Bagno dotato di doccia, vasca e lavatrice. Camera da letto matrimoniale con parquet, anche in questo caso con doppia esposizione. Ampia armadiatura. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.desio.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza.